Cinque rumeni sono stati fermati a Ragusa per caporalato, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione anche minorile. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura distrettuale di Catania dopo la denuncia asporta da un cittadino rumeno attirato in Italia con l'inganno e al quale era stato promesso un lavoro. L'uomo aveva descritto una situazione disumana nella quale viveva insieme ad altri 12 connazionali. Lavoro gratis nei campi e condizioni abitative precarie. Le vittime venivano rinchiuse sotto chiave in casa, mangiavano cibo scaduto e le ragazze, alcune di loro minorenni, erano costrette a prostituirsi, senza contare che chi osava ribellarsi subiva violenze fisiche.